Manufatti ed ili adibite a rimessaggio, parcheggio e sosta temporanea per auto e moto realizzati senza alcuna concessione, in spregio di ogni normativa urbanistica ed edilizia. A Trinitapoli, stretta sul fenomeno dell'abusivismo, amaramente endemico alle comunità, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. Continua così l'attività di controllo del territorio della sesta provincia pugliese e delle forze dell'ordine, attraverso la demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente. La Procura della Repubblica di Foggia, a seguito di una mirata attività d'indagine espletata dalla stazione Carabinieri di Trinitapoli, ha emesso il nulla osta alla materiale esecuzione dell'abbattimento. Durante l'attivazione delle misure, il servizio di ordine pubblico, teso a garantire una cornice di sicurezza durante il materiale espletamento dell'ordinanza commissariale, è stato diretto dalla dirigente del commissariato di Barletta, sotto la costante vigilanza del personale messo a disposizione dalla questura di Andria, dal comando provinciale Carabinieri di Trani e dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Barletta, che hanno vigilato affinché non si verificassero situazioni di criticità durante l'esecuzione. I locali di rimessaggio abusivi, per i quali si procede all'abbattimento, erano già sotto sequestro da novembre.